Giustamente si entra in clima partita, domani sera si gioca al Granillo, tornerà Maietta dopo il turno di squalifica, che novità potrebbero esserci di formazione mister? Maietta torna disponibile per il mister, possono avere loro con due acquisti, con Colucci e Di Michele, due nuovi acquisti molto bravi, molto giocatori importanti che possono dare qualità e esperienza a una squadra già forte, nonostante in classifica non sia una classifica alta, quindi incontreremo un ambiente difficile perché già leggendo alcune interviste dei giocatori stanno caricando a mille questa partita e quindi ci aspettiamo un ambiente caldo, ma noi siamo pronti come del resto, noi eravamo prima di la Spezia. Il tuo bilancio è a dire poco strepitoso, 11 punti in 5 partite, domani rientrerà tutti gli effetti mister Mandolini perché scade oggi la sua squalifica, insomma una tua analisi di questo periodo che ti ha visto protagonista assoluto sulla panchina del Verona? È andata bene, il bilancio positivo è della squadra, della società che in questo momento sta lavorando molto bene, sta lavorando per un obiettivo importante e quello che conta è questo. Grazie a tutti!